Da qui hanno preso, l'hanno piegato e hanno tirato fuori tutto. Sono entrati nella scuola di notte forzando una porta sul retro e sono riusciti a mettere a segno una maxicolpo da 70.000 euro a pochi giorni dal suono della prima campanella. È successo nella notte tra lunedì e martedì, bersaglio del ride all'istituto Margheritone. Sono ancora scioccata, le dico la verità. La banda una volta dentro è andata a colpo sicuro, per prima cosa si è diretta nelle stanze della segreteria. Hanno staccato dei cavi, quindi io immagino per portare via anche i computer, gli all-in-one che abbiamo in segreteria. Quindi ha ripulito il carrello mobile in cui erano disposti i tablet, circa un centinaio quelli che è riuscita a portare via. Qui, infatti, è stato chiuso, erano tutti gli altri tablet. Si tratta di strumenti utilizzati anche per facilitare e agevolare l'apprendimento di tutti gli studenti con disabilità. Vengono custoditi nella sede centrale del Margheritone, ma di fatto ne beneficiano gli alunni di tutti e nove plessi della scuola. Quindi, oltre ai bambini diversamente abili, che sicuramente una buona parte, metà, il 50% è loro, altra parte serve ai bambini, ai DSA, per esempio, oppure la progettazione curricolare. C'è tutto, diciamo, un curriculum che viene danneggiato. Scardinate e saccheggiate anche le macchinette automatiche. Immediata la denuncia presentata alla Polizia di Stato, che sta indagando sul caso. L'allarme della scuola, nelle ore precedenti al colpo, era partito per ben due volte, ma la vigilanza non aveva notato nulla di sospetto. Mi hanno chiamata, però mi hanno assicurata che era tutto a posto. Grazie.